Buongiorno, ben ritrovati, oggi è sabato, rassegna stampa l'ultima della settimana, come sempre sono pronti i giornali su Noto Tascreen e quindi procediamo con ordine, vediamo l'almanaco del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi sabato 26 marzo e la Chiesa osserva appunto il sabato santo, il sole è sorto alle 5.59 e tramonterà alle 18.29 e quindi queste sono le previsioni del tempo per questo lungo ponte pasquale, vediamo le previsioni di oggi, sabato 26, cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con schiarite sempre più ampie, cielo sereno nel pomeriggio, precipitazioni in nottata nelle prime ore della mattinata, possibilità occasionale di deboli rovesci. vediamo le previsioni per domenica, domani appunto giorno di Pasqua, il cielo poco nuvoloso in mattinata con aumento delle stratificazioni nel corso del pomeriggio, precipitazioni assenti quindi non dovrebbe piovere, vediamo previsioni per lunedì 28.3, il cielo è poco o parzialmente nuvoloso, nubi stratificate un pochettino nel corso del pomeriggio, precipitazioni però in nottata, quindi brevi isolati piovaschi, vedete quindi un cielo nuvoloso. Queste sono le previsioni del tempo, quindi insomma all'insegna della variabilità, però la pioggia non dovrebbe, come dire, interessare più di tanto questi tre giorni compreso oggi. Entriamo nelle pagine dei giornali, partiamo appunto domani è il giorno di Pasqua, da quello che è per l'arcivesco di Pesaro, Monsignor Piero Coccia, il messaggio principale incontra i detenuti, celebrerà la messa in carcere con letture e canti e in passato anche i fedeli musulmani hanno partecipato a questa funzione. Oltre le barriere, domani la cerimonia, poi un momento di dialogo e un messaggio di speranza. L'intervento di Monsignor Piero Coccia su queste festività punta sulla solidarietà, perché dice abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo. La società di oggi sta vivendo il fenomeno preoccupante dell'indifferenza generale, quindi si riferisce sicuramente all'accoglienza e a tutto quello che è il mondo del volontariato e dell'accoglienza dell'altro e dei meno fortunati. Però anche polemiche sulle pagine del resto del Carlino, sulle dichiarazioni del procuratore Palumbo, che ha detto chiaramente che la mafia è nel territorio e non da oggi, troppa gente vive bene senza lavorare. Queste le parole di Manfredi Palumbo. Nell'intervista ad Alessia Morani dice anche lei grande cautela nelle gare pubbliche, perché appunto c'è questa denuncia del procuratore che ci spinge a dimenticare un po' gli stereotipi sulla mafia. I pericoli sono anni che lanciano l'allerta sulle infiltrazioni malafittose dal riminese. E dice la ricetta, la soluzione sarebbe la normativa già varata sull'anticorruzione che va supportata ogni giorno. Ecco, potete leggerla l'intervista alla deputata su questo argomento. Andiamo nelle pagine del resto del Carlino di Fano, dove il flagello dei furti di questi ultimi due giorni, 5-6 distributori di benzina locali, adesso nella giornata di ieri abbiamo visto le barche, insomma veramente un assedio, furti. La banda dei tre colpisce a raffica. Si parla di tre appunto perché nelle immagini di videosorveglianza compaiono sempre in tre, sempre a bordo di un paiero, Mitsubishi paiero, un fuoristrada rubato a Lucrezia. E quindi si presume che i furti siano riconducibili tutti agli stessi soggetti. Mirko Vagnini, una delle vittime, dice sarà la diciassettesima volta che mi derubano. Oggi e ogni episodio ti mangia il fegato perché chiaramente oltre ai danni ci sono anche, che oltre al furto, agli oggetti che vengono portati via ci sono i danni, quindi insomma 17 irruzioni, non sono poche. Poi sempre cronaca, presa mentre ruba a Locian, ma il giudice non convalida l'arresto perché dice è stato solo un tentativo. Ancora nelle pagine del resto del calino si parla di sanità, però è anche della centralina di Bellocchi, quindi di ambiente, di aria pulita e ad alzare un pochettino la protesta su questa centralina, fanno a 5 stelle l'attacco dei grillini contro il comune, dice i dati della struttura, non sono ancora online. Benini, sul fronte dell'ARPAM, dice il comune ancora non c'è neanche rivelato se il rivelatore è in funzione, quindi l'ARPAM dice non è colpa nostra perché non abbiamo ancora questa affermazione. Era stata presentata questa centralina, si era detto in conferenza stampa che i dati sarebbero stati disponibili online, consultabili da tutti i cittadini sulle polveri, sui metalli, però ancora i grillini dicono che questi dati non ci sono, non si possono consultare. Un evento della prossima settimana, sabato prossimo, quindi esattamente fra sette giorni, la Nazionale Cantanti scenderà in campo per una partita di beneficenza, e quindi insomma questa sarà la settimana preparatoria. Nazionale Cantanti, l'articolo nel resto del Carlino dice l'acuto sono i biglietti già venduti 3.300 pass per assistere alla partita benefica del 2 aprile e qui nell'articolo ci sono tutti i retroscena, insomma quindi che cosa avviene e che cosa avverrà in questo pre-partita. Piagnarelli, il portiere, insomma anni 70 dell'Alma Juventus Fano, Graziano dice sono indecisi, sono indecisi naturalmente sulla trizona. Davide Cassani invece sul fronte della squadra dei cantanti, eravamo già venuti fa con Ramazzotti in sempre questa occasione della partita della Nazionale Cantanti. E poi buone notizie per le operaie della Compass, della mensa sanitaria della Saipem, che erano state trasferite a Bologna. La Compass, l'azienda appaltatrice della multinazionale, ha revocato i trasferimenti e ha aperto un tavolo di trattative. Quindi buone notizie, le due dipendenti non saranno trasferite. Allora Fano, ancora con il Corriere Adriatico, vediamo, si parla di sanità, vi dicevo Fano Fosso Seggiore e il Project Financing. Il centro-sinistra è con Seri, trova la quadra sulla delibera 141 e nel contrasto a Ceriscioli, chieste analisi per tutti i siti. Insomma, una votazione unanime, si prospettava forse un voto diviso, una scissione, grande discussione, ma poi il voto è stato unanime. Il referendum contro il piano sanitario si farà, raccolta delle firme, l'atto Fano, Movimento 5 Stelle è possibile insieme a Bene Comune, hanno lanciato questa iniziativa da mercoledì, inizierà la raccolta delle firme appunto proposta da queste liste civiche e quindi insomma vedremo che c'è un altro articolo che riguarda questo aspetto. Continuiamo nelle pagine del Corriere Adriatico, vi dicevo, i furti, la banda dei distributori, qui cita il Corriere Adriatico, razziati quattro impianti, ladri al bar in una gastronomia, poi da un coaffer, insomma inseguiti e però si dileguano. Vedete i siti qui nelle foto del Corriere Adriatico, i siti colpiti e insomma il Mitsubishi Paiero ritrovato con le mazze, probabilmente usate per sfondare i vetri blindati e fare irruzione nei posti dove hanno deciso. E poi vi faccio vedere nelle pagine del Corriere Adriatico due vicende che comunque sono state seguite anche da noi ampiamente. La prima è quella dell'assassinio che si è verificato a San Michele al fiume, non so, vi ricordate, chiesti 30 anni per Gino Ruggeri che uccise Rosella Iatesta a colpi di bastone nella loro abitazione dopo un litigio nella notte. Ci fu anche l'attenzione dei media nazionali su questo caso. È arrivata la richiesta del PM che ha chiesto appunto 30 anni per Gino Ruggeri. E poi un'altra vicenda sempre che abbiamo seguito molto, anche noi addirittura facciamo una diretta e la mattina che si verificò durante la notte la frana, poi la mattina aprimo in rassegna stampa con una diretta, siamo a Orciano, la voragine che si aprì quella notte sfiorata la tragedia, ci potevano finire dentro un pulmino, un'auto, insomma per il sangue freddo di una ragazza fu evitato il peggio, ma il buco è ancora lì. Allora il sindaco dice il mio ufficio nella voragine, riceverò lì i cittadini. Il sindaco di Orciano, Stefano Bacchiocchi, dopo una lettera inviata al prefetto per questa situazione di stallo, trasferirà, farà questa, se non riceverà, dice se non riceverò nessuna risposta farò questa azione così eclatante, riceverò i cittadini proprio lì sul bordo, sul ciglio della voragine. Andiamo a Senigallia, preparativi in spiaggia per la Pasqua, il maltempo ha creato un po' qualche problema, ha coperto l'arenile di detriti, però si va a una corsa contro il tempo per assicurare ai turisti una spiaggia decente, sopra luogo dei comuni, dei tecnici del comune, chiedo scusa, oggi aperti bar e ristoranti e inizieranno la loro attività. E poi ecco gli auguri del neovescovo di Senigallia, Monsignor Franco Manenti, si rivolge a tutte le persone che non si rassegnano al declino della convivenza, gli auguri del vescovo a chi crede nella pace. E poi sempre da Senigallia era caduto anche a Fano, alcuni mesi or sono, tempo scaduto, si parla di parto, partorisce sul sedile dell'auto una coppia di tedeschi a Senigallia che erano arrivati per comprare casa, la moglie era a fine tempo e quindi ha partorito in auto. A Pesaro per il Corriere Adriatico c'è più musica nei locali e meno gioco d'azzardo, grazie a un'ordinanza sull'uso che limiterà slot e videopoker dalle 10 alle 23 e allo studio orari più liberi per suonare musica nei locali. Grillo d'allarme però in testa di pagina da parte delle associazioni sindacali sull'occupazione perché l'economia pare essere ripartita nel comparto produttivo della provincia di Pesaro ma i dati dell'occupazione quindi dei dipendenti, dei lavoratori no. Situazione allarmante nella nostra provincia, occorre aprire subito un confronto serrato tra regione, sistema creditizio, forze sociali ed economiche per cercare di capire qual è la ricetta migliore per tradurre questa ripresa dell'economia anche in posti di lavoro. Andiamo nel messaggero Pesaro e si parla di banca Marche, in primo piano banca rotta per la vecchia banca delle Marche, dopo il fascicolo madre con 36 indagati adesso si procede per i reati fallimentari. Foto notizia per la VL, all'Adriatico Arena arriva la solita rivale, Caserta la solita rivale perché gli scontri con il Caserta da parte delle VL sono storici. Rossini, spartito di 300 metri, tutto da colorare, questa è un'iniziativa a Pasquetta in piazza Gazalada, trasformata in un arcobaleno di notte. Vediamo cosa ci dice il meteorologo Massimiliano Fazzini, sarà come abbiamo visto anche dagli amici della protezione civile delle Marche, Pasqua con un sole capriccioso, quindi un sole che andrà e farà capolino. Allora si parla anche nelle pagine del messaggero, del messaggio dell'allarme di Manfredi Palumbo e rinforza questo concetto anche il sottosegretario agli interni Bocci che è stato in visita a Pian del Bruscolo e oggi non esiste più una provincia senza infiltrazioni mafiose. Questo è il suo messaggio, però il sottosegretario al Ministero degli Interni Gian Piero Boccia dice non me la sento appunto di fare un'affermazione di questo genere, però in un'area come questa con 4.000 imprese appunto è difficile che non esista questo rischio, però posso anche dire che si sono costruiti gli anticorpi giusti per combatterli e quindi insomma anche questo è un messaggio comunque rassicurante perché sul fronte anche del contrasto alla delinquenza e all'infiltrazione mafiosa ci sono azioni, azioni che fanno ben sperare. E poi il rapinatore seriale delle farmacie, ve lo ricordate anche lui, è stato preso, è stato condannato a 6 anni di carcere e 10 mesi. Vi faccio vedere la pagina di Fano, del messaggero, anche qui nuovo ospedale, la maggioranza evita lo strappo, appunto ho trovato la quadra per fare una proposta unica che chiede che venga stralciata dalla delibera 141, il riferimento esplicito al sito ospedaliero di Fosso Segliore e gli spazi aperti agli investitori privati, quindi il cosiddetto project financing, quindi bocciato dal comune di Fano queste due postille nella 141 e adesso si va alla raccolta delle firme per il referendum Salviamo il Santa Croce, quindi insomma una mossa a tenaglia contro la regione da parte di Fano, quindi su due fronti. E poi Porto, Bazar e l'assedio dei ladri, ma qui si punta l'attenzione sull'equipaggio del Tartan, vedete qui nella foto il suo comandante che oltre ad essere stati rubati gli strumenti adatti alla navigazione per seguire i banchi di pesci in mare, quindi fare una pesca proficua, sono stati portati via dei documenti importanti perché questo è stato l'appello che ha rivolto anche ai nostri microfoni, ieri il comandante, ci sono documenti importanti, soprattutto anche i libretti d'imbarco dell'equipaggio perché è composto anche da persone straniere, c'è un messicano, ci sono dei nordafricani e loro per rifare il loro libretto di lavoro, quindi poter lavorare di nuovo in mare, devono andare nelle loro nazioni, quindi andare in Messico, andare in Marocco, andare in Tunisia, quindi un danno notevole soprattutto per questi lavoratori e poi perché senza documenti della motopesca non possono lavorare, quindi ci sono cinque famiglie che rischiano veramente di stare in brutte acque, nel caso di dire, per diverse settimane, quindi l'appello era che questa borsa rossa contenente documenti così importanti, chi la ritrovasse o documenti sparsi vicino ai cassonetti li riportasse a loro. Bene, buona Pasqua a tutti voi, domani è il giorno di Pasqua, passate un buon weekend in famiglia, con chi volete o dove volete, la rassegna stampa torna martedì mattina alle 7.30. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti voi.